Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. L'indennità di 200 euro inserita dal governo Draghi nel decreto aiuti andrà a sostegno di lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati con reddito fino a 35.000 euro lordi, oltre che disoccupati, stagionali, colf e percettori del reddito di cittadinanza. Per quanto riguarda la categoria dei pensionati, l'erogazione del bonus da 200 euro avverrà in maniera automatica a luglio con l'Inps attraverso il pagamento della mensilità. Ma per il sindacato pensionati questa indennità, una tantum, non è sufficiente, si è rapportata anche con il costo della vita in costante aumento. Diciamo così, è una piccola goccia in mezzo al mare, l'inflazione si ha quasi al 7% raggiungendo dei livelli che non si vedevano così dagli anni 80. E questi 200 euro che non vengono dati nemmeno a tutti, perché comunque la platea è molto ristretta, da soli non servono a niente. Voglio dire, noi abbiamo anche nella nostra città, le pensioni, nella città di Pesaro, le pensioni sono dei livelli proprio bassi, più bassi rispetto alla media nazionale. Se noi sappiamo, vediamo con un'inflazione al 7% i rincari di energia, ma anche della spesa, la condizione degli anziani è veramente una condizione precaria. Anche perché gli anziani, molti anziani, vivono soli e quindi tutto il costo è grave soltanto su una sola persona, non è diviso all'interno del nucleo familiare. Quindi servono risposte un po' più forti per aggredire in maniera chiara e completa il problema che non è di poco conto.